Sportivamente D'Annunzio è già diventato un libro di grande successo, quasi un caso editoriale, una grande soddisfazione per te che sei alla prima pubblicazione, speriamo la prima di tante altre. Beh sì, la soddisfazione è tantissima, anche perché non mi aspettavo veramente tutto questo boom mediatico. Probabilmente si sono toccate le note giuste, soprattutto di un personaggio che per certi punti di vista può essere anche scomodo. Ho cercato di trarne appunto una linea di un'immagine giovanile, fresca, abbinandoci anche la passione del mio lavoro che è quella del giornalista sportivo. Come è nata l'idea di scrivere un libro su D'Annunzio sportivo e giornalista? Beh è nato tutto dagli studi accademici fatti alla Sapienza di Roma, in quel caso feci appunto uno studio parallelo tra letteratura e giornalismo in Gabriele D'Annunzio. Successivamente ho abbinato a questo la passione per il giornalismo sportivo e ho scoperto tante chicche che riguardano D'Annunzio, sia come cronista, sia come cultore in prima persona del corpo e dello sport. Nel libro si parla anche di D'Annunzio come giornalista e molti non sanno che D'Annunzio è stato anche giornalista. È stato anche giornalista, è stato fondamentale per lui l'attività giornalistica per farsi conoscere ed entrare nel mondo. Molti non sanno che è stato anche pioniere del giornalismo sportivo, in particolare proprio sul quotidiano La Tribuna di Roma a fine Ottocento, cronache di sport, in particolare corse di cavalli, duelli di scherma, corse di cani. E propose questa rubrica chiamata Sport ed altro nel quotidiano La Tribuna di Roma a pensate più di 11 anni di distanza dalla nascita della Gazzetta dello Sport, quindi un vero pioniere del giornalismo sportivo. Primo libro, d'obbligo i ringraziamenti a chi? I ringraziamenti più grandi vanno sicuramente a due degli studiosi più importanti, credo, nel panorama nazionale. Il presidente del Vittoriale degli Italiani, Giordano Bruno Guerri, e l'ex presidente del Vittoriale degli Italiani, nonché curatrice dei Meridiani Mondadori, Anna Maria Andreoli. Sono loro due le figure portanti che mi hanno aiutato in questi studi, oltre che due storici dello sport che tengo a nominare in questa sede, Sergio Giuntini e Marco Impiglia per soprattutto le loro importanti informazioni e le curiosità che mi hanno fornito su D'Annunzio Sportivo.